Buonasera, buonasera, auguroni alla signora Fortunata, io sono il parco. E oggi, festa della famiglia, è veramente una grande gioia trovare la vostra famiglia, tanto numerosa, riunite insieme. Mi sente? Grazie. Siamo tutti qua, le vostre sorelle di Fortunata, i vostri parenti, il sindaco, i priori delle congreghe, ci siamo tutti per dare un saluto e un augurio a mamma Fortunata. Allora, io do un saluto in poesia Alla signora Fortunata Mettis Barbuto Centenaria. Siamo tutti riuniti in sala parrocchiale per fare festa insieme col cuore a saggio viale. La festa è per la mamma di nome Fortunata, che compie i cento anni e dal buon Dio è grata. Bammetis di cognome, ma di barbuto è sposa, è seria, intelligente e spesso anche strosa. Da quando si è sposata per la sua vita annosa, formò una famiglia allegra e numerosa. E mamma esemplare di tutti a grande cura, ovunque dispensò amore a dismisura. Per i suoi sette figli che generò alla vita, ha un grande, immenso amore e gioia infinita. Domenica, Giuseppe, Francesco e Caterina, con rosa e tutta grazia della bontà divina. E il caro Antonino, insieme a Margherita, che l'abbia in paradiso il Dio nell'altra vita. Le sue brave sorelle, la Caterina e Rosa, festeggiano l'evento con gioia assai festosa. Domenico Antonio, un fratello tanto amato, si associa agli auguri col cuore emozionato. E c'è Giovan Battista, nipote australiano, che arriva in Brasile perfino in aeroplano. E noi, qui dall'Italia, o mamma centenaria, vogliamo che tu respiri la nostra fresca aria. Siamo tutti attorno a te, a modi girotondo, per augurarti il bene che c'è in tutto il mondo. E ringraziamo Dio per tutti quei favori che in tanti lunghi anni divennero tesori. E questo l'augurio, o mamma fortunata, per noi sarai sempre la mamma più amata. Per questo grande giorno e per i dì futuri, o cara fortunata, i più cordiali auguri. E ringraziamo Dio per la tua famiglia. Come ricordo di questa serata, ecco, a nome della comunità parrocchiale, io il parroco ti consegno un quadro ricordo. Lo vedete? Lo vedete il quadro? C'è la dedica alla cara e gentilissima signora Barcuto Metti sfortunata, i più cordiali auguri e la benedizione di Dio per i suoi cento anni. Il parroco, padre Carmelo e la comunità parrocchiale. La consegnerò a una sua sorella, alle due sorelle, e poi gliela faranno recapitare in Brasile. Auguri, mamma fortunata! Grazie. 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 Grazie.